Non è passata inosservata e non è piaciuta l'assenza degli amministratori comunali di Bassano alla cerimonia di consegna dei premi intitolati al lavoro promossa dalla Camera di Commercio di Vicenza. Una cerimonia che si è svolta venerdì scorso all'ente Fiera che ha visto coinvolto un intero territorio, un'intera provincia. Né il sindaco dunque, né gli assessori dell'ottava città del Veneto si sono però presentati. Un grave errore, commenta Roberto Marin, capogruppo di impegno per Bassano. Io purtroppo non conosco l'agenda di questa amministrazione, tuttavia certo che un premio, un riconoscimento così a questi imprenditori, proprio in questo momento in cui bisogna portare positività, esempio, va a valenza sociale sostanzialmente questo premio, anche per le future generazioni ma anche per gli attuali imprenditori che vivono un momento molto difficile dal punto di vista economico e anche dei posti di lavoro. Quindi ritengo che era una priorità per questa amministrazione la presenza proprio per dimostrare l'attenzione e la massima solidarietà rispetto a questi premi che sono stati assegnati dalla Camera di Commercio. Lavoratori e imprenditori si sono sentiti abbandonati da chi dovrebbe rappresentarli e soprattutto sostenerli. E di certo la questione non passerà sotto silenzio. C'è un po' sostanzialmente di, in qualche maniera, diciamo di sgomento perché molto ovviamente come erano presenti tutti gli altri sindaci o la maggior parte dei sindaci del comprensorio, ritengo che Bassano, che è ottava città del Veneto, era importante che fosse rappresentata proprio dall'amministrazione.